Buon carriere, Jazz Festival Alvia, la 27esima edizione, maestro Ugo Viola, quali sono le novità di questo 2024? Le novità sono tante, intanto diciamo il periodo più importante, a partire da sabato 2 con la grande notte nera del jazz, senza corte, fino a arrivare al 17 novembre, tanti eventi, tanti legati all'ambiente, legati al Green Jazz Day, legati al jazz che cura, quindi con l'inclusione, grandi concerti, grandi concerti che hanno dei tempi, Cine e Cese il 14 novembre, il 15 con Fabrizio Bosso, l'omaggio a Pino Daniele, un omaggio al 7 generale di Marco Polo e chiuderemo con chi? Con i cento anni dedicati alla radio, dove nel luogo deputato della RAI di Torino, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Fabrizio Bosso, le voci di Corritoio, anche io farò uno special guest, ma la grande voce straordinaria di Tosca.